Il Valore delle Fiere È importante, è la vetrina, è la vetrina della loro attività, è la vetrina dei nostri prodotti, è un punto di incontro con tutti gli operatori, è importante. Il Vinitaly ha dato una mano al solo, noi avremo un po' l'ambizione che il solo assumesse un ruolo un po' più grande rispetto al padre nobile che il vino che nel tempo comunque ha fatto passi da gigante sia nelle fiere ma anche nella produzione ovviamente. Il Valore delle Fiere È un sistema molto meno materiale per poter metterci insieme, oggi anche i sistemi informatici ci aiutano con la comunicazione e quant'altro, quindi c'è bisogno di aggregarsi e poi affrontare attraverso le fiere e attraverso dei progetti di promozione che anche l'Unione Europea ancora ci mette a disposizione per poter affrontare i mercati e far conoscere il nostro prodotto. Grazie Grazie